Siccome mi viene chiesto dal sindaco Zani di fare riferimento al mio corrispondente relativamente alla presenza di pubblico alla giunta che incontra i cittadini, io lo faccio volentieri e vado ad aprire direttamente quello che ho ricevuto. Questo è l'articolo incontro con la giunta e foto, è stato inviato ieri alle 14.22, poco dopo io scrivo il mio pezzo. Queste sono le foto che mi allega il signor Morandi, c'è forse qualche persona in più, non lo so, non voglio entrare nel merito. Apro il file di Morandi e questo è quello che mi si apre. La giunta e contatti cittadini, la sera del 23 luglio, la giunta e contatti cittadini, certo che una città come Palazzolo con poco più di 20.000 abitanti, trovandosi poco più di un centinaio di persone, non è che sia stato un grande successo. Questo è l'inizio del pezzo di Morandi. Io dico se questo è il modo di affrontare quelle che possono essere delle storture della comunicazione a Palazzolo, credo che non ci siamo. Perché denigrare sempre non va bene. Io ringrazio Dio che presumo che abbia un nipotino di Gesù Cristo che in questo paese si chiama Beppe Grillo e pochi altri, visto che nei grillini nessuno è santo. Però Grillo ha insegnato l'umiltà e l'accettazione della critica. Qui dire che noi denigriamo perché si fa un articolo con tantissimi vuol dire denigrare. Io nel mio pezzo ho scritto chiaramente che le giunte itineranti sono una cosa molto positiva. Che cosa vogliamo di più? Ho detto che sono molto legate in termini di presenza alla scarsa propensione del cittadino italiano, non Palazzolese o Clarense, di andare alle giunte. Che cosa vogliamo di più? Ce la prendiamo perché critico il fatto che un ufficio stampa regolarmente pagato cominci con tantissimi cittadini e grande successo. Scusate ma di cosa stiamo parlando? Di un tour di Bruce Pristin? O invece non era meglio dire, caspita abbiamo fatto un'iniziativa ma vogliamo che ci sia ancora più cittadinanza di Palazzolo a partecipare a queste serate qua? Perché io penso che 6, 7, 5 amministratori di giunta presenziare a un parco con 60, 70, 100 cittadini non sia un granché. Perché scusatemi, le prove non le do io, le dà l'informazione scientifica dei social network piuttosto che dei quotidiani. A questo punto fermiamoci a un post su Facebook e non facciamo più questi incontri. Invece è eroico fare degli incontri, molto meno eroico gonfiare in termini di trionfalismo l'esito di questi incontri perché non c'è stata partecipazione adeguata. Ma questo non perché sia colpa del sindaco Zanni o degli altri amministratori. L'unica colpa che reputo del sindaco o della giunta o di chi ha individuato, come ha detto Stampa, che peraltro a livello fotografico davvero è discutibile perché non ho ricevuto una fotografia, se non alcuni fotogrammi di telecamera tutti sgranati negli anni in cui è attivo, un anno, due anni, non ricordo. Devo dire che l'unica colpa è creare dei toni trionfalistici rispetto a una partecipazione che non può essere trionfalistica. Ma aggiungo di più, supponiamo che alla giunta di Palazzolo ci fossero state mille persone. Che bisogno c'è di dire trionfalismo, con trionfalismo grande partecipazione? I numeri, soprattutto in un ambito non profit, come quello della politica, che dovrebbe essere non profit, sono una soddisfazione intrinseca e non sono da vendere, non sono da annunciare. Chi c'è, c'è, e chi non c'è, non c'è. Quanti eravamo? Eravamo tanti. Quelli che c'erano hanno imparato qualcosa di utile, hanno criticato, hanno domandato. Chi non c'è perde in politica, chi non vota, secondo me, nonostante oggi l'astensionismo sia per molti versi comprensibile o giustificabile, comunque si astiene dal partecipare alla vita politica. E quindi esserci vuol dire comunque avere conquistato un pezzo di cultura locale, secondo me. Ma da lì a dire c'erano 2000 persone, c'erano 5000 persone, nemmeno quando dovesse capitare una giunta dovrebbe sbandierare questi risultati. Perché? Perché per uno spirito vanesio, che è tipico del politico, si finisce di nuovo con l'autocelebrarsi e trasformare una serata di normale e doverosa amministrazione, perché incontrare la gente è doveroso, in casa comunale o per i prati, e si trasforma in, di nuovo, statistiche, resoconti, sondaggi o chiamiamoli come vogliamo, comunque una serie di dati che finiscono per essere in appeal e in odore elettorale. Cosa che non deve avvenire mai per chi fa il politico, soprattutto per chi ha avuto la fortuna di essere scelto dalla propria città e di avere vinto, quindi, le elezioni.